Aspetta ragazzi, aspettate un attimo che naturalmente mi organizzo. Allora, vediamo un attimo, un attimo di pazienza. Allora, perfetto, ok. Benissimo, vediamo se anche di sabato troviamo qualcuno che mi fa compagnia. Ora riaccio sabato, stanno tutti in giro ragazzi, ma ci proviamo. Ci proviamo ragazzi. Ok, ok. Chiaramente sto vedendo la partita con il chiaro intento di bufare, questo mi sembra chiaro ovviamente. Ok, ok. Allora, vediamo un po' magari pure di attrezzarci, di creare qualche sondaggetto, qualcosa di interessante. Va bene, vediamo un po'. Ok, una bella sfida, ricompensa o qualcosa di simile. Oh, buongiorno Damian. Not strike. Eh sì, più che live reaction, chiamiamola con il nome che è una gufo reaction. Dobbiamo essere un attimo onesti, onesti intellettualmente. E ora avvio l'ennesima sfida ricompensa ragazzi. Vediamo un po' chi vince. Ok, aspettate che sto creando una sfida ricompensa. Ok. Tanto voi scrivetemi cose, che a breve vi rispondo. Allora, Bologna batte Lazio. Vediamo un po' come votate cari. Eh, ok. Ok, ok. Ok. Oh, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Le gufo tutte? No, non lo so ragazzi. Mi trovo a casa, ho avviato questa diretta. Ho visto che gioca la Lazio, quindi già che ci sono un occhio ce lo butto, ce lo butto volentieri, vi dico la verità. Naturalmente la mia attenzione è focalizzata più che altro sulla Roma, è ovvio, perché domani è una partita molto importante. E oltretutto si profila uno strano modulo, quindi sicuramente ne parliamo, amici miei. Intanto voglio anche aprire Blitz Quotidiano, blitzquotidiano.it Ciao Lira, buona giornata anche a te. Ok, ok ragazzi, piano piano stiamo facendo cose, stiamo facendo cose. Ok, ok. Ok, benissimo, benissimo. Ok, ok, bene, bene. State iniziando già a votare, eh? Molto bene ragazzi, continuate a votare che io intanto sto impostando sondaggi, sto impostando tantissime cose, ok? Quindi un attimo di pazienza, che ci divertiamo ragazzi, ci divertiamo. Allora, dovrebbe giocare il faraone. Quindi io chiedo, segna Elcia? E vediamo come la pensate belli di casa. Ovviamente quando avvio questi sondaggi, queste dirette, le prime cose che faccio comunque sia sono fare sondaggi, aggiornare cose. Allora, io vi dico la mia. Allora, io penso che domani la Roma cambierà modulo, va bene? Cambiando modulo, io mi aspetto comunque, ritorna la difesa a quattro. Ciao Federico, ciao Federico, ti auguro buon sabato. Sto parlando un attimo del cambio di modulo della Roma, perché secondo me domani non scenderemo in campo con l'ormai tradizionale difesa a tre e a quant'altro, ma a mio parere passeremo a quattro. Insomma, passando a quattro capirai bene che ci sono degli equilibri tattici un attimo da andare a ricercare. Quindi, tutte le persone che sono in linea, intanto, esatto Damian, le persone che sono in linea, vi invito via via che vi connettete, oltre a votare i sondaggi, naturalmente a lasciare dei commenti, per capire un po' bene come sfruttereste, ciao Erfurius, come sfruttereste questa assenza di Zaniolo, questa assenza di Nicolò, in altri termini, che cosa fareste? Ciao Marco, intanto, mo' stavo salutando tutti i ragazzi, mo' la diretta è appena partita, man mano che andiamo avanti saluto tutto. Allora, Damian farebbe il 4-3-3, vedi? Quindi ci sarebbe di base un cambiamento. Erfurius, tu che faresti? Mo' me lo dici. Oggi riesco a seguirti. Molto bene Albus, sono molto felice, quindi mi raccomando, partecipa molto, lascia tanti commenti. Buon pomeriggio Marco. Lira invece è veribile, 4-2-3-1. Ah, ciao Debbie, bene, 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 benvenuta. Quindi Lira, tu praticamente torneresti al modulo con cui giocava la Roma a inizio stagione. Allora, intanto rispondo a Leo. Ciao Leo, innanzitutto buon sabato. Sì, Ebram, Ebram giocherà, quindi dallo pure come titolare. Adesso dobbiamo un attimo capire, intanto io butto sempre un occhio sulla partita. Insomma, stavo dicendo che bisogna un attimo andare a capire altre cose. Cioè, in pratica, Ebram è il punto di riferimento. Però bisogna capire se giocheremo con un attacco a due, se ci saranno tre trequartisti dietro di lui. Insomma, tante situazioni che vanno chiarite. No, di niente, figurati. Tanto Debbie dice mai più difesa a tre. Tanto ragazzi... Ora vediamo un attimo. Tanto ragazzi vi metto... Sì, Simone, parliamo anche del fantacalcio che ho creato oggi, va bene? Tanto metto qua in sovraimpressione Il solito link, così se avete voglia di fare accesso e di parlare con me e farmi domande, non lo so, Debbie, Leo, tutte le persone che sono in linea, Asdrael, Marco, tutti quelli che vogliono partecipare, cliccano su questo link e possono farlo. Allora, Marco, e tutti quelli che comunque si sono iscritti al mio fantacalcio, faccio un po' di chiarezza, un po' di chiarezza. Un po' di chiarezza facciamo. Allora, io oggi, visto e considerato che, come sapete, tempo fa ho creato le mie fantaleghe, ok? L'app è semplicemente leghe FC, l'app che hanno tutti quelli che giocano al fantacalcio, va bene? Come sapete, io avevo creato in passato cinque leghe per un totale di 500 squadre, ok? Quindi, 500 miei fans partecipano ai fantacalcio organizzati da me. Tanto ciao ciccio pancetta. E ora rispondo a tutti. Prima fatemi spiegare bene questo discorso del fantacalcio. Quindi, che cosa ho fatto? Ho detto, visto e considerato che molte altre persone continuano a chiedermi appunto di fare il fantacalcio, creiamo un'altra e ultima lega, perché sennò iniziano a essere un po' troppe per me e anche ci sono difficoltà a gestirle. Quindi, in altre parole, ho creato un'altra fantalega. Però, prima di creare le competizioni, guardate, in tempo reale, ora vado a vedere, prima di andare a creare le competizioni, naturalmente mi devo andare ad assicurare, ok? Mi devo andare ad assicurare che siamo almeno 80, va bene? E in questo momento però già abbiamo raggiunto la metà. Da qua si vede? Ok, sì. Siamo già a 43 nel fantacalcio. Quindi, non appena arriveremo a 80, che è il numero massimo di partecipanti, io creerò due competizioni. Creerò il campionato e la Champions League, al quale naturalmente potrete partecipare tutti, ragazzi. Quindi, mi sembra veramente una bella idea. Fatta questa premessa, ok, benissimo, fatta questa premessa, torniamo a parlare di Roma adesso. Ok, allora, domani non sarà facile indovinare quello che vuole fare il mister, ok? Dovremmo ascoltarlo naturalmente con attenzione. Eh, lo so, Marco, scusate, l'ennesima parentesi del fantacalcio. Lo so che è molto tosta, però non volevo fare un centro, un fantacalcio banale. Non volevo fare un fantacalcio dove era facile prendere i soliti Vlauvić, compagnia bella. Eh, volevo fare un qualcosa di, un pochino più gaillardo, va bene? Dove, veramente si vedono, si vede la bravura delle persone. E, e quindi, chi riuscirà ad eccellere in questo fantacalcio che ho creato, sarà veramente una persona in gamba, sarà veramente una persona forte, sarà veramente una persona che riesce a pescare quei giocatori a sette, otto, otto crediti. E' il solito rigore per la Lazio nel frattempo, ragazzi. E' una cosa vergognosa, ragazzi. Quando cascano è sempre rigore, ragazzi. E' veramente, è veramente una cosa inaudita. Sì, sì, ma sempre, sempre. E' un classico. Poi dici perché, poi dici perché il centravanti arriva sempre a ventico offisso. E grazie. E guarda, questo rigore è inesistente, ragazzi. è un rigore inesistente, ragazzi. E' un rigore vergognoso, vergognoso, ragazzi. Mo' torniamo a parlare a Roma, però fatemi fare una live reaction, ok? E' veramente un rigore imbarazzante, ragazzi. Guardate come ride Mialovic, ragazzi. E' una cosa che non ci si crede, veramente. Gli ha fatto così, l'ha appena sfiorato, non si può dire neanche che sia una manata, nulla. E' stato un contatto, vi devo dire la verità, leggerissimo, va bene. Un contatto veniale, io non ci posso credere che in serie A diano dei rigori del genere, ragazzi. L'ho appena sfiorato, l'ho appena sfiorato. Non si può definire, secondo me, un contatto, questo qui. è una cosa che fa vergogna, secondo me. Perfetto. Mo' vediamo come va sto rigore, ragazzi, ma... vi dico che è un rigore inesistente, 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 ragazzi, veramente clamoroso, veramente clamoroso, ragazzi. Vediamo Skoruski che fa, intanto postate commenti a buffo su quello che vi pare, mercato, formazione della Roma, che ora ne parliamo, ma fatemi vedere questo rigore, ragazzi, che ha un qualcosa veramente di imbarazzante, imbarazzante proprio. è gol, ma non si va avanti così, non è... è un rigore assurdo, è un rigore vergognoso, ragazzi. Vabbè, che volete che vi dica? Finché girano arbitri del genere, è una vergogna totale, comunque. Allora, vediamo Federico. Oggi sentivo ipotesi Olivera-Pellegrini in mediana, nel 4-2-3... me sembra troppo, però. perché se metti Olivera-Pellegrini in mediana, poi sei sbilanciatissimo perché metti Mkhitaryan, Esharahawi, Felix, Ebram, praticamente giochi con tutti gli attaccanti, ragazzi. Insomma, mi sembra un po' un po' troppo sbilanciato, o no? A me sembrerebbe veramente un modulo molto sbilanciato, ora ne possiamo pure parlare insieme, però insomma, sarebbe dire come gioca con quattro attaccanti, praticamente. È pur vero che noi con Sassuolo dobbiamo vincere. eh, però insomma... vabbè, ok, comunque grazie per la domanda, Federico. Magari se in radio hanno detto questo avranno le loro fonti, però a me sembra un modulo, ti dico la verità, un po' troppo offensivo. L'ho visto, l'ho visto, un rigore, ragazzi, inesistente, c'è stato un tocco veramente veniale, sarà difficile però così andare avanti se a noi non ci danno un rigore neanche se ci uccidono, praticamente a questi qua gli fai così e danno il rigore, vabbè. Allora, non c'è un numero, non c'è un numero obbligatorio, ok Marco? Quindi puoi decidere tu come strutturare la rosa, che ne so, puoi decidere pure tre difensori, non so, la butto lì, ci deve essere un numero minimo di rosa di quattordici calciatori, va bene? Però sta a te strutturarla come meglio credi, puoi pure comprare, che ne so, tre difensori, spera che ti giocano sempre e compra dieci attaccanti, la butto lì per farti capire in maniera estrema che non ci sono limitazioni da rosa. Guarda, 4-4-2 farei un po' fatica ad immaginarmi gli esterni del centrocampo, mentre Damian mi scrive una formazione, allora, Rui Patricio, Cardor, Pevancini, Smoling e Vigne, vabbè, quindi difesa a quattro, Beretù e Sergio in mediana, Pellegrini a Fena e Isharawi dietro a Debram sostanzialmente. Oh, vi siete svegliati? State a lasciare commenti? molto bene ragazzi, postate tanti commenti, si Debbie è veramente una vergogna, ti dico la verità, perché mi è sembrato veramente un rigore inesistente. Io farei un centrocampo Oliveira Bove, Oliveira Bove non è brutta come idea, però non succederà mai nella vita, perché non credo che Mourinho metterà il nostro caro Bove titolare, quindi mi sembra solamente, come posso dirti, una cosa che al momento non ha, purtroppo, non ha fondamento, non ha margini, non ha margini di verità purtroppo, però a me piacerebbe perché ritengo che Bove è in grande crescita. Allora, Damian, si chiama Andrea Pelagatti Cup, è una liga privata, quindi devi trovarla come Andrea Pelagatti Cup e c'è una parola d'ingresso nel fantacalcio che è benvenuta con la finale, tutto minuscolo, va bene? Quindi se entri mi fa molto piacere, mi fa molto piacere ragazzi, veramente piacere. Andiamo avanti, andiamo avanti, tanto ragazzi vediamo un po' se creiamo qualcosa di carino, andiamo avanti, ok, 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 vediamo un attimo, ok, bene, sto scrivendo una cosa, perfetto, perfetto, ok, vediamo un po', allora, siete tanti finalmente, lasciate i commenti, abbiamo una rosa da rifondare, spero che pinto a giugni se svegli, sì, vabbè, ma non è facile però, corretto, perché quando tu devi comprare e vendere tanto, è veramente semplice sbagliare, ed è veramente semplice perdersi per strada, quindi sappiamo tutti che c'è molto da fare, però ragazzi, non banalizziamo il tutto, non crediamo che sia semplice, perché non è assolutamente così. comunque Andrè farei giocare, bove, dar bovere tu, tutti tranne Cristante, beh, Cristante ieri non si è raggiunta un'intesa per il rinnovo, però le parti hanno parlato in maniera abbastanza positiva, in maniera abbastanza costruttiva, e niente, quindi basta, quindi basta, va così, rinnovo, non è nell'area rinnovo di Cristante, va bene, però le parti hanno parlato in modo abbastanza positivo, il problema principale è che la Roma deve capire, se vuole investire una determinata somma di denaro, per Cristante oppure no, e quindi bisogna fare, secondo me, delle attente valutazioni, perché comunque se gli vai a rinnovare il contratto, glielo alzi un po', lo stipendio che prende, bisogna un attimo vedere se ne vale la pena, perché al momento Cristante va benissimo così, diciamo così, tenertelo come riserva, ok, però se gli devi andare a darsi allo stipendio, vi dico la verità, anche no, no? Sì Marco, ma noi non ci danno manco un rigore, oggi hanno fischiato un rigore alla Lazio, che praticamente c'è stata una carezza, insomma, qualcosa di abbastanza vergognoso, benvenuto l'Opero, Vignas sta a fare più danni della Grandine, però ti dico la verità che Maitland Niles, messo sulla destra, onestamente mi fa schifo, a me c'è un giocatore che a sinistra mi fa schifo, Maitland Niles, quindi io ve lo appoggio se mi dite di metterlo titolare, ok, titolare a destra, ma ragazzi, ma a sinistra io vi dico anche no, vi dico anche no, vi dico la verità, perché non mi piace proprio, poi ditemi la vostra, ma a me Maitland Niles a sinistra non mi piace proprio, ho già risposto, Bologna-Lazio-X, eh Pampero, mi pare un po' difficile, perché dopo quel furto che hanno fatto al Bologna, che devo dire, grida vendetta, cioè insomma, dopo veramente questo rigore che grida vendetta, ragazzi, è un po' difficile andare a pensare a un pareggio, vi dico la verità, non ci stanno proprio le basi secondo me, perché se la Lazio ruba così tanto, ma se ne sembra difficile per Bologna, allora, io Mancini, un turno in panchina, sono d'accordo con te, non sarebbe una cosa male da fare, si chiama, ragazzi, si chiama Andrea Pelagatti, ok, ma ha staccato, cup, cup, come la coppa, cup, Andrea Pelagatti, cup, per leggerla come si scrive, sì, bravo Damian, cup, esatto, allora, Bove, ragazzi, Bove, e si Mancini, il mister ne ha parlato bene, però ragazzi, io vi devo dire anche la verità, a me sembra difficile che, che Bove venga messo titolare, poi, oh, nella vita, onestamente, tutto è possibile, non è che sto, dicendo di no, però, se mi chiedete un'opinione, se, se mi chiedete un'idea, io, io faccio fatica domani, a vedere Bove titolare, oh, poi ce mancherebbe altro, se così dovesse essere, eh, se dovesse verificarsi questo, ma forza, ma forza Bove tutta la vita, oh, ma chi dice di no, ma chi dice il contrario, è un ragazzo romano e romanista, perché mai non dovrei, non dovrei sostenere, però, insomma, io devo dire pura verità, a me, a me pensare a lui titolare domani, mi sembra strano, mi sembra difficile, conoscendo mister Murigno, però, ripeto, nella vita, non si può, non si può mai sapere, quindi, aspettiamo la formazione ufficiale, no, non tanto, non tanto, non ha una grande, considerazione di, di Darbo, no, no, ma infatti, mi sembra improbabile, è una partita molto difficile, però, non c'hanno né scamacca, guarda, Damian, guarda le storie di Instagram, che là, lo vedi meglio, allora, eh, no, non c'hanno né scamacca, né raspadori, quindi, per l'amor di Dio, non è facile, però, insomma, non è neanche impossibile, Andrea, metti caso, che finiscono sopra di noi, sì, sì, certo, certo, se a Roma, arriva sotto Puralas, è un fallimento totale, lo so, Lorenzo, infatti, non sono arrivati a un'intesa per il rinnovo, sì, sì, è un fallimento totale sarebbe, ma anche non arrivare in fondo alla conferenza sarebbe un fallimento totale, quindi, sì, ragazzi, se la mettete su questi termini, sono d'accordo con voi, intanto, perché ancora non lo facesse, seguite, mi raccomando, sì, ma i Fretkin non capiscono nulla di calcio, quindi, hanno preso il pacchetto portoghese, vediamo sto pacchetto portoghese, composto da Pinto, Mourinho e Mendesche, che risultati darà? Allora, la primavera sta proprio alla canna del gas, sta calando vertiginosamente, ora, mi rivolgo agli appassionati del campionato primavera, e, se vi ricordate, ok, vi faccio un discorso, ragazzi, anche l'anno scorso la primavera aveva iniziato forte, non così forte, anche perché poi, il campionato, oltretutto, era stato fermato, per il covid, e, e però, insomma, poi alla fine non era riuscita ad arrivare a Dama, eh, quest'anno sta andando un po' meglio, però, veramente sta calando in modo incredibile, ah, insomma, sta calando in maniera incredibile, e speriamo che possa riprendersi, perché ci vorrebbe, onestamente, un bello scudetto primavera, mi farebbe, molto piacere, molto piacere, rientro di Spinazzola, vediamo, è una valutazione variabile, che solamente lo staff medico, può fare, potrebbe essere prossima, come ci potrebbe volere ancora un po', due acquisti, Sì, Johnny, allora, esterno sinistro, è un terzino terzo, beh, dai, no, ci abbiamo altre priorità, amico mio, purtroppo, ci abbiamo altre priorità, Masdrawi a zero, certo, anch'io lo prenderei tutta la vita, ma, ci abbiamo, ci abbiamo veramente altre priorità, ragazzi, e quindi, no, no, c'è, gli esterni, non si possono fare anche delle valutazioni, amico mio, tanto, mi ero fermato un attimo, perché, c'era sto cavolo di Bologna, che praticamente era arrivato vicino al portiere, ma, non è riuscito a concludere niente, perché sto vedendo la partita, naturalmente, quindi, va bene, sì, gli esterni qualcosa si potrà fare per migliorare, però, però non è una priorità, non è assolutamente una priorità, ragazzi, non è assolutamente una priorità, quindi, non è una cosa che verrà fatta immediatamente il mercato degli esterni, di sicuro gli ha spesi male, ma, vediamo, vediamo, però non si può accollare tutto a pinto, perché, pinto agisce pure sulla base delle indicazioni di Murigno, pinto ha sbagliato delle situazioni con il budget, ma, secondo me, non gli si può accollare tutta sta roba qua, ok, ok, quindi andiamo avanti, scusate, ripeto se mi fermo ogni tanto, ma, spero sempre che dall'Olimpico, arrivino buone cose, invece, niente, è una vergogna, gli hanno dato sto rigore, se no, stavamo alla mezz'ora, e stavamo ancora 0-0, eh, era una partitaccia, e non era successo praticamente nulla, ma, ma invece, un esordio di Kramizzi, se no, ragazzi, la primavera è una cosa brutta, guarda, guarda, oggi hanno preso due cose al Torino, nel senso, e, e il livello della primavera è nettamente inferiore al livello della Serie A, non possiamo mettere in prima squadra dei difensori, che riescono a prendere coppia, anche nel campionato primavera, ragazzi, bravissimo ragazzo, sono contento che abbia esordito in prima squadra, però, come ha detto Mourinho, cioè, proprio il campionato primavera, è un campionato veramente non serio, è un campionato che non vale niente, ragazzi. Allora, Metland e Sergio in mediana? Boh, che Metland-Nels può giocare dovunque, secondo me in mediana, gioca anche meglio che, che praticamente a sinistra, a sinistra non mi piace proprio. Allora, Renato Sanchez è per me molto forte, ok? Quindi è un giocatore che, praticamente, prenderei, prenderei con una buona sicurezza, perché, ripeto, è un giocatore dinamico, è un giocatore tecnico, ha tante caratteristiche che mi piacciono, però, credo che costi anche, anche, anche molto, quindi, in questo caso, Pintosi dovrebbe, rivelare, un bravo DS, capace di prenderlo, appunto, all'apprezzo giusto, e, e non lo so se ci riuscirà, sinceramente. Tanto Federico mi parla, di un investimento importante, in società. Ma, allora, Pinto, ripeto, ha fatto un mercato estivo, un mercato invernale. Ora, la società dovrà sedersi a un tavolo, lo dovrà valutare, quello che ti dico la verità, è che ho visto, un netto avvicinamento, tra Totti e il club. Questa cosa, non può non farmi piacere, perché io, rivolrei Totti al più presto, all'interno dello staff societario, perché, secondo me, Totti è una, oltre a essere stato, una bandiera, un grande campione, è una persona, estremamente competente, quindi, secondo me, nelle scelte Totti, ci potrebbe dare una grande mano. Non è casuale il fatto, che all'improvviso, lui stia sempre, di nuovo allo stadio, secondo me, si può anche trovare, che ti posso dire, un'intesa, un accordo, per rinserirlo, nel nostro organico. Naturalmente, la Lega, Damian, partirà dal prossimo turno di campionato, perché questo è in corso, e perché, comunque sia, prima, prima di tutto, devono finire le iscrizioni, ora faccio un aggiornamento, in tempo reale, e vi dico così, il numero esatto, di squadre, alle quali siamo arrivati, così avete anche, il polso della situazione, quindi, aspettate un attimo, che ve lo dico, eh, non mancano tanti posti, eh, mancano solamente 30 posti, quindi, amici miei, vi dovete sbrigare, 30 posti, non sono tanto, veramente, in pochissime ore, in pochissime ore, l'ultimo fantacalcio, che organizzerò, per quest'anno, sta letteralmente finendo, ok, perciò, perciò, perciò ragazzi, vi dovete sbrigare, perché le iscrizioni, per fantacalcio, stanno chiudendo, e andranno pure tutelati, però, sta al mister, che è un allenatore incredibile, un allenatore d'esperienza, decidere, quando lanciare, nella mischia o meno, se hanno giocato, solamente queste, non di più, è perché evidentemente, per lui meritano questo, io sogno, un centrocampo, Renato, Sciacca, Oliveira, sarebbe un bel reparto, ok, Johnny, sarebbe un bel reparto, tre partite, in una settimana, ma infatti, sicuramente, ci saranno, dei cambiamenti, per esempio, non mi risulta, che i Sharawi, e Felix, abbiano giocato titolari, l'ultima partita, quindi, è probabile, un loro inserimento, poi, chi te lo dice, che mette Shomurodov, alla fine, noi parliamo, per frasi fatte, perché abbiamo visto, che Shomurodov, ha sempre deluso, però, in realtà, io vorrei anche ricordare, che quando ha giocato, in coppia con Ebram, ad esempio, contro il Venezia, ha comunque fatto, una buona partita, perciò, chissà, ha anche uno Shomurodov, ebram, uno ne devo scegliere, a che, a che, sì, sì, andate a iscrivervi tutti, a questa pagina, più pubblicità di così, lo metto in sovraimpressione, quindi, verrà visto qui su Twitch, verrà visto su YouTube, verrà visto dovunque, amico mio, più pubblicità di così, andate tutti, sulla sua pagina, e iscrivetevi, Senesi è un bel giocatore, è un bel giocatore, non è, non è un campione, affermato, però, 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 insomma, se ne si, io ci farei una scommessa, perché sono sicuro che prendendolo, con la cura di un grande allenatore come Murigno, per me, nel giro di pochi anni, potrebbe diventare, veramente, un difensore dominante, sarebbe una sciocchezza, secondo me, perché Cardor, piace molto al mister, e non credo che ci siano le basi, ma sarebbe l'inizio di un percorso, alla fine Alberto De Rossi, allenato, tanti anni, quindi, perché no, però, sì, potrebbe essere un bel inizio, per Danielino, con i nostri colori, partire dalla primavera, che comunque, è sempre una squadra, che lotta per lo scudetto, quindi, non sarebbe male, ok, sì, va bene, ma ad esempio, lo stesso Murigno, potrebbe suggerire, ai Fredkin, dei profili di questo tipo, guarda che Cardor, per lo scorso anno, che con Fonseca, giocava più avanti, ha fatto più assist di Spinazzola, sono numeri a Biglia, non è che Andrea Pelagatti, è venuto qui in diretta, e, è venuto qua in diretta, diciamo, e ti sta dicendo, la prima cosa che passa, ti sto dicendo la verità, i dati, lo scorso anno, quando giocava un po' più avanti, c'era un sacco di assist, poi ci mancherebbe, io posso cambiare pure tutti e undici, se ci fossero i soldi, però, in tutta franchezza, non ci sono, Napoli-Inter, questa è una domanda molto difficile, molto difficile, veramente difficile, perché, secondo me, Napoli si gioca il tutto per tutto, se l'Inter dovesse vincere, Napoli è spacciato, praticamente, diciamo X, non lo so, non lo so, ma naturalmente, Asso partecipa a tantissime trasmissioni, sta nel web, così, da tantissimo tempo, ha tantissimi contatti, se hai visto, c'è pure quella trasmissione, o CW, W, là, che fa venire dei giocatori, basta avere i contatti, diciamo che, se tu, praticamente, provi a portare i giocatori, che giocano in serie, è quasi impossibile, perché, ci sono tante restrizioni, e non te lo fanno, però, gli ex calciatori, e i giocatori, che giocano all'estero, se c'hai gli agganci giusti, ce la potresti pure fare, a portarli live, ma naturalmente, devi avere il numero, devi avere gli agganci giusti, e così che funziona. André, più volte che il Bologna, crea occasioni, no, no, non ci credo al pareggio, io lo spero, ovviamente, lo spero tantissimo, e questo sia chiaro, ma non, non ci credo, Totti sarebbe un sogno, ma, posso dirti che, più che sogno, mi sembra, una possibilità concreta, perché ripeto, ragazzi, parliamoci chiaramente, non è che, può essere un caso, che Totti, alla fine avete visto, non stava più allo stadio, no, cioè, ma all'improvviso, lo vediamo sempre allo stadio, cioè, ti dico la verità, io, io non penso, che possa essere un caso, c'è una cosa casuale, una cosa, del tutto così, fortuita, perdonatemi, ma non ci credo, invece, parlando più seriamente, credo che sia un oggettivo, riavvicinamento, e penso che questo riavvicinamento, possa essere pure, il motore, ok, per rivedere, Francesco, all'interno della nostra società, la cosa, più importante, è che sia però, un rientro razionale, nel senso, che Francesco rientri, per avere appunto, un qualcosa di serio, non che lo butti lì, e non sai di preciso, cosa farli fare, cosa affidarli, quindi, deve essere un rientro serio, perfetto, quindi no, se rientrerà, rientrerà per fare, un qualcosa di calcio, un qualcosa di operativo, ma iscriverti a cosa, allora, se ti vuoi iscrivere a Twitch, basta che clicchi il tasto segui, o il tasto abbonamento, se ti vuoi iscrivere al Fanta Calcio, invece è facilissimo, devi scaricare l'app ufficiale, del Fanta Calcio, che si chiama, Leghe FC, poi quando l'hai scaricata, c'è scritto, unisciti a una lega, là è sufficiente, che scrivi, Andrea, Pelagatti, Coop, una volta che l'hai trovato, esiste, una parola, una chiave segreta, per entrare, che è benvenuta, ha scritto tutto minuscolo, e il gioco è fatto, sì, sì, però non è una cosa che mi riguarda, allora, Shaka continua a prendere Rossi in Premier, e, beh, Shaka considera che è un giocatore, molto cattivo, è cattivo nel senso giusto del termine, è un giocatore molto combattivo, però io non lo so, magari lì si è fatto, si è fatto una nomea, ciao, Deskroka, sta iniziamo un legno, molto bene ragazzi, informatemi come sempre, di quello che dice, io intanto continuo a vedere la partita, e vediamo, vediamo, perché il rapporto tra Perisic e l'Inter, è sempre un po', un po' così, un po' incerto, un po', un po' ballerino, se pensate appunto che tempo fa, è andato a giocare al Bayern Monaco, e quindi insomma ragazzi, si potrebbe fare, cioè Perisic non è una inarrivabile, mentre Brozovic è un inarrivabile, per Perisic si potrebbe anche fare, però non è una situazione secondo me, calda né attuale, dobbiamo aspettare un po' di settimane, per capire meglio, è breve tornerà, sono sicuro Andrè, ok, ciao Francesco, Totti dovrebbe ricoprire, lo stesso ruolo, che ricoprono Maldini nel Milano e Zanetti all'Inter, sì, però nell'Inter abbiamo due squali che si occupano del mercato, come Ausilio e Marotta, mentre nel Milan abbiamo appunto Massara, che noi lo conosciamo bene, lo conosciamo bene, è molto bravo, perché è cresciuto alle spalle di Sabatini, perché è molto bravo, è cresciuto con gli insegnamenti del maestro Walter Sabatini, infatti al Milan ha fatto benissimo, ha avuto delle intuizioni geniali, se ci pensate, perché Salama Kers la ritengo un'intuizione geniale, anche Rafael Leao è stato veramente un grande acquisto, hanno preso un grandissimo prospetto, e che dire, anche altri giocatori che ha preso il Milan, tipo Tomori, cose così, secondo me sono stati veramente in gamba, veramente in gamba, quindi io sono una persona obiettiva, tifo per la Roma, ma quando altri fanno un buon lavoro, non ho problemi a riconoscerlo, e penso che in questi anni il Milan sia stato costruito in maniera esemplare, in maniera magistrale, intanto vediamo i risultati, vediamo come avete votato ragazzi, ok, così assegno pure i punti di compensa, scegli il risultato, ok, perfetto, perfetto, ok, chiaramente io ti fò Bologna ragazzi, quindi mi dispiace per chi aveva messo là, aveva messo altre opzioni, ma io ti fò Bologna, che mi aspetto dal Sassuolo, dal Sassuolo intanto con le dovute proporzioni, è vero, Raspadori è un giocatore alla guerra, che ovviamente non c'è neanche minimamente comparazione tra i due, perché il Cune è stato immenso, Raspadori è semplicemente un buon giocatore, ma come caratteristiche lo ricorda, quindi ti faccio i complimenti Federico, ma mi aspetto che punterà tutto su Berardi, perché naturalmente è il loro fulcro, ha una media goal incredibile, media goal e assist incredibile, Berardi pensa che al fantacalcio, Berardi è il terzo migliore attaccante del campionato, dopo Immobile e Blauic, quindi veramente Berardi è tantissima roba, e però poi penso che l'altro posto in attacco verrà ricoperto da De Frel, però voglio dire una cosa ragazzi, occhio a Cervo va bene, è appena arrivato lì, si sta comunque mettendo in evidenza, visto e considerato che a noi chi è della Roma ci segna sempre, io butterei un occhio su Cervo se vi posso dire la verità. Ok, Comunque Andrea che ne pensi della Rai? Ma allora, considera che il Super Bowl comunque sia l'avrei visto su Dazon, perché Dazon c'ha tutto l'NFL, il fatto che lo abbia acquistato anche la Rai, cioè dal punto di vista personale la vedo come una cosa molto bella, ma sono consapevole del fatto che in Italia non interessa di quasi a nessuno praticamente, quindi non lo so se per la Rai sarà un affare dal punto di vista economico, però vabbè, a me interessa tantissimo, poi ci sono i Rams che sono a livello di football, la mia squadra del cuore, perché quando sono andato a Los Angeles erano la squadra che andava per la maggiore, so che storicamente loro sono di St. Louis, ma quando io sono stato a Los Angeles era il loro momento, quindi mi sono appassionato tantissimo e sono praticamente la mia squadra del cuore dal punto di vista del football, quindi io penso che sia una bella finale, penso che sia una bella finale perché i Rams sono ultra mega favoriti, però occhio a questi Bengals che contro ogni pronostico si sono qualificati, perché alla fine ragazzi, la verità è che tutti pensavano appunto a squadre come quella di Tom Brady in finale perché erano i campioni in carica, pensavano ai Guns of City, Chips di Mahomes, e quindi ragazzi, invece questa finale è veramente una sorpresa, quindi non resta che gustarcela. Allora, Teo Hernandez lo ha convinto Maldini. Vero, vero, e guarda, lì ci ha avuto un peso importante perché Massara può essere bravo quanto ti pare. Sì, veramente è una cosa disgustosa, Federico, infatti ti metto in evidenza, perché Sarri ha fatto una cosa vomitevole, praticamente a star nutito, è uscito praticamente un quintale di muco nasale, uno schifo, delle caccole sicuramente su Twitter ci sarà e sicuramente sta cosa diventa virale sicuramente, ti dico la verità. Eh sì, perciò una cosa disgustosa Sarri, ma per forza, per forza Federico, anzi, ti dico la verità, quasi quasi la creo anche io, quest'emoticon. Andiamo a vedere, mi ha messo una curiosità pazzesca, quindi vado subito a cercare questa cosa di Sarri, ragazzi. Allora, vediamo un po', eh, vediamo un po' questo schifo assoluto, vediamo, vediamo, vediamo una, eccolo, guardate che schifo, ragazzi. Vi metto subito il link, il link nella chat, è una cosa vomitevole, eccolo qua, ve l'ho trovato subito, eh, vi ho trovato subito, Sarri che si scaccola, una vergogna, una vergogna assoluta, se state mangiando, non vedete questo video, perché è una cosa, è una cosa che fa vomitare, ragazzi, è una cosa veramente, veramente disgustosa, eh, una cosa proprio che, praticamente, ne fa ribresso, ti dico, dico la verità, che se lo guardi, potresti anche, anche vomitare, tanto ringrazio le persone che mi stanno mettendo il segui, eh, qui su Twitch, naturalmente vi invito a continuare a farlo, perfetto, ok, allora, il goticerbo è scontato, e purtroppo, ragazzi, ogni volta che la Roma gioca contro i cosiddetti romani e romanisti, che vi devo rispondere, è un massacro, ci purgano, ci castigano, sistematicamente, io, io spero di no, perché c'erbo nella Sampdoria, a parte, qualche bella discesa, qualche bel cross, onestamente, non è che abbia fatto, eh, chissà che cosa, naturalmente, io, che vi devo dire, a Sassuolo, io gli auguro, con le migliori fortune del mondo, però, però, amici, insomma, e, insomma, ragazzi, speriamo che non inizi a segnare da contro la Roma, no? Sarebbe una spiga piuttosto incredibile, se praticamente, questo ragazzo, per primo colo, fa proprio, lo fa proprio contro di noi, dai, io direi, poniamola così, non ce la tiriamo, dai, sarebbe una cosa allucinante, ripeto, lunga, lunga vita a Cervo, lunga, fortuna a Cervo, però, ve prego, amici miei, non, non iniziasse, non iniziasse proprio, dalla partita contro la Roma, no? Sarebbe assurdo, se, insomma, questo è il primo gol in Serie A, ragazzi, il primo gol in Serie A, contro la Roma, io direi, direi anche no, no? Eh, andiamo, no? Vabbè, staremo a vedere comunque. Allora, esatto, esatto, le migliori fortune, ma da lunedì, sarei nuovo l'OV, diventerà meme. Eh, ragazzi, una cosa brutta proprio, perfetto per i laziali, laziale e munco nasale, vabbè, ma è una cosa brutta, ragazzi, ma è proprio, è proprio una scaccolata clamorosa, eh? Io non lo so, davanti ai telecamere, ma come si fa? Cioè, c'è la partita, una cosa brutta proprio. Comunque, questa partita della Lazio, tanto per cambiare, è veramente uno spettacolo sceno, non so se vi rendete conto, non so se avete capito l'antifona, ma praticamente, loro stanno a vincere, tanto per cambiare, direi io, per un rigore inesistente, e però questi, la verità è, è alla fine che se gli arrivano, ragazzi, so tre punti d'oro, so tre punti veramente d'oro per loro. Sempre Mateus. Allora, Juve-Atalanta uno, Napoli-Inter-X, se mi chiedi così, un pronostico, però, però in realtà, mi aspetto sia una reazione dell'Atalanta, dopo alcune partite veramente brutte, e allo stesso tempo, allo stesso tempo, non lo so, Napoli-Inter, ripeto, è una partita veramente cruciale per il Napoli, pensate, dici bene, perché l'Inter ha una partita in meno, seguite un attimo bene il ragionamento, se l'Inter vince, o stacca proprio per Napoli, perché già sta avanti adesso, e in più c'è una partita in meno facile, perché contro il Bologna, se invece dovesse vincere il Napoli, l'Inter potrebbe comunque tornarli davanti, recuperando la gara col Bologna, ma secondo me sarebbe veramente interessante, il campionato diventerebbe veramente interessante, e allora a quel punto anche il Napoli entrerebbe nella corsa per lo Scudetto. Io penso che la Juve da qua, alla fine del campionato, praticamente proverà a fare filotto, proverà a vincerle tutte, penso che la Juve sia ancora in tempo per tornare a competere per lo Scudetto. Vediamo, vediamo, dai, sono belle partite. Sì, Harrison, meno male che ti sei connesso, perché io l'ho commentato in tempo reale, in tempo reale. Ok, 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 allora stavo a dire, tu ti sei connesso adesso, io ho fatto la live reaction in tempo reale, è stato un rigore vergognoso, perché praticamente hanno dato un rigore per una carezza. Cioè, vorrei chiarire subito un punto, onde evitare equivoci, va bene? Levatevi dalla testa che un rigore del genere lo daranno mai alla Roma. Un rigore del genere non verrà mai dato alla Roma. Alla Roma, per ricevere un rigore, devono praticamente sparagli, devono praticamente ucciderli. Il giocatore della Lazio è stato appena sfiorato, questo non è ovviamente, non è rigore mai nella vita. È incredibile che con il VAR veramente si continuino ad assegnare stronzate di questo tipo. Io non ho più parole, non ho più parole, però intanto vedo che è anche inutile dirlo, perché poi alla fine queste cose vengono accordate, queste cose vengono assegnate, quindi penso che continuare pure a parlarne, vi dico la verità, sia addirittura una battaglia persa, perché rigore comico proprio, non è successo niente. Non è successo niente, il potere in lega di Lotirchio. Ma non lo so se è questo, però ripete, i rigori di oggi non stanno in cementera, il calcio è uno sport di contatto, non è che per una carezzina puoi dare un rigore. E perciò nulla, dai, va così ragazzi, va così oggi. Va così però certo, è un qualcosa di importante, perché se tu praticamente sì, sì, i giocatori da Roma per dare un rigore deve succedere qualcosa di grave, deve succedere una guerra mondiale, invece vedi qua che fanno le carezze e danno i rigori. chiaramente se tu stai in corsa insomma polaiato così, no? Con un'altra squadra diventa una sfida un pochino impari, no? Ah, benissimo, benissimo Asdral. Adesso mi vado subito a recuperare le dichiarazioni dato che è mai molto incuriosito. Non so perché non le trovo da nessuna parte però. Vediamo un attimo, vado sul sito della Roma, vediamo un attimo. Allora, nessuno si è offeso, è una grande bugia, Ebram sta bene, però da come leggo qua questo sito che l'ha riportata, quello che si dice nello spogliatoio rimane lì dentro. Cosa vuole dire Muregno che l'hai ascoltato a voce? Ha negato di aver detto certe cose? Spiegatemi un attimo bene questo concetto perché ci tengo a capirlo, ragazzi. Voglio capire se Muregno ha smentito categoricamente quello che è stato scritto o semplicemente se ha smentito il discorso che non si è offeso nessuno. Spiegatemelo bene perché sono sicuro che voi lo state ascoltando mentre ascoltate pure me, quindi spiegatemi bene cosa ha detto. Forse giochiamo col 4-3-3. La nostra difesa è inferiore a quella del Sassuolo? Tu che ne pensi, Lira? A me mi sembra una stronzata cosmica e ti posso spiegare perché perché il Sassuolo Ah, ok, perfetto. Giò mi ha chiarito. Questo è molto importante. È un chiarimento molto importante perché a me risultava che la sua incazzatura nello spogliatoio ci fosse stata. Però, come vi ho sempre detto perché comunque voi che mi seguite lo sapete, no? Non posso mentirvi perché mi seguite tutti i giorni e se dicessi qualcosa di diverso chiunque di voi mi direbbe Andrea ma tu hai detto una cosa sbagliata hai detto una cazzata invece io ho sempre detto che la sua arrabbiatura nello spogliatoio c'è stata ma credo che sia anche corretto dopo una prestazione di merda di quel tipo quello che però l'ho sempre smentito è quello che probabilmente è stato detto da qualcun altro non da me cioè che ci sarebbero stati dei giocatori della Roma che avrebbero reagito male addirittura chiedendo gestioni o cose del genere questo me lo dovete riconoscere perché onestamente ve l'ho sempre detto non vi ho sempre smentito questa cosa quindi sono veramente felice di avervi offerto un'informazione fatta fatta come Cristo comanda quindi datemi fiducia seguite questo canale qua seguite YouTube ragazzi perché su YouTube io pubblico video inediti raccolgo le dirette Twitch perché ricordiamo che le dirette Twitch se tu praticamente non le vai a trasferire su YouTube che cosa succede? succede che poi in breve tempo vengono tolte ok invece avendo la possibilità di trasferirle su YouTube io in sostanza vado ad allungare la vita a queste dirette allora sì sì ma che Mourinho sia un fuoriclasse senza dubbio ripeto io però devo prendere queste dichiarazioni col beneficio d'inventario perché me le state riportando voi io non ho visto direttamente la sua conferenza stampa ok però ecco si può discutere su tante cose si può dire che il Sassuolo è meglio di noi in alcune situazioni di gioco però addirittura dire che la difesa del Sassuolo è più forte della nostra anche no perché guarda ve lo assicuro se il Sassuolo ha un punto debole è proprio la difesa che è abbastanza ridicola la difesa del Sassuolo ragazzi commette degli errori piuttosto clamorosi quindi se c'è una cosa che non invidio al Sassuolo è proprio la difesa no guardate ragazzi è una questione di diritti io non penso di poter trasmettere le dichiarazioni di Mourinho sì bellissimo l'incontro tra Tom Holland e Totti io penso che quando in questa città venga una star venga un personaggio di quella creatura la prima cosa che vuole fare è incontrare Totti perciò non ci trovo nulla di strano è una cosa che mi piace considerare Totti come figura rappresentativa perché credete a quello che vi dicono visto e considerato che anche in questo discorso di Mourinho vi ho riportato una cosa esatta una cosa fatta bene credete in quello che vi dico e quello che vi dico è questo io ho viaggiato molto quando tu dici Roma ok in un'altra città o addirittura in un'altra nazione le prime due cose che dicono è Colosseo e Totti Colosseo Roma e Totti quindi a me piace molto questo discorso che Totti sia riconosciuto a livello internazionale perciò ragazzi vi dico la verità vi dico la verità sono molto felice di questo incontro ok il Sassuolo ha un gioco che quando noi ci giochiamo contro scusa il gioco di parole ne esce fuori ne esce fuori una partita bellissima la partita d'andata è stata bellissima quando ho fatto la diretta con Giogiant ha detto che addirittura per lui Roma-Sassuolo è stata la partita più bella dell'anno c'è un fondo di verità è stata una gara splendida capovolgimenti di fronte sarebbe potuta finire con qualsiasi risultato quindi come ve posso spiegare bella partita vedrete che anche domani non vi annoierete non vi annoierete anche domani sarà una bellissima partita sì ma se sono uscite fuori delle frasi che Murini ha detto negli spogliatoi vuol dire che qualcuno ha fatto la spia questo è vero questo è chiaro ok non ha detto che la difesa ha più forte ha solo detto che la difesa del Sassuolo può impostare dal basso e la nostra no beh lo sai chi imposta di solito il Sassuolo Chiriches ma a me non mi sembra che Chiriches ci abbia sto piede fatato Murini ha detto che il livello tattico del Sassuolo è alto perché riescono a costruire al basso con Lopez e Ferrari ma Ferrari ti ripeto non mi sembra questo giocatore molto bravo in costruzione Ferrari è un difensore fisico è un difensore che è molto bravo nel gioco aereo è un difensore che spesso trova il gol che va a saltare però addirittura ora definire Ferrari così bravo in fase di costruzione come fosse Bonucci mi sembra troppo per quanto riguarda Lopez si a volte si abbassa e inizia a costruire lui l'azione però però ti dico la verità io non vedo questa differenza dai su se dite che Ferrari è più forte i mancini e che Tony è più forte ma non capite molto di calcio ok mi piacerebbe rivedere Totti in dirigenza in stile Maldini ma si può fare secondo me sarebbe una cosa fatta bene ok il contesto di una squadra che rende per aereo e Tonya più forti Carstorff e Mancini eh sì bella per i tifosi neutrali ma molto meno per le nostre coronarie è vero ragazzi fu una partita se ricordate abbastanza tosta da digerire intanto per Bologna sta in tra uno che non avevo mai visto che si chiama Cassius Cassius Clay chi è sto Cassius perché la Roma creò moltissimo e fu molto bravo anche il portiere del Sassuolo poi però per attaccare per cercare la vittoria mi ricordo che praticamente noi all'andata gli abbiamo lasciato delle praterie e veramente Rui Patricio è stato fantastico perché all'andata Rui Patricio fece delle uscite delle parate di primissimo livello veramente bravo il nostro portierone all'andata e poi vabbè ci abbiamo avuto anche sorte quando hanno annullato praticamente Scamacca l'andata ha segnato un gol al volo di destro meraviglioso una bomba un gol alla Vambastene che per fortuna gli è stato annullato per fuorigioco ragazzi è stata una partita tosta che abbiamo meritato di vincere ma che anche loro hanno avuto queste occasioni però per questo dico che mi sembra ingeneroso dire che loro sono più forti di noi perché a parte che la classifica dice altro e poi abbiamo giocato molto bene anche noi l'andata noi quando incontriamo squadre aperte come il Sassuolo solitamente riusciamo a fare una grande partita quindi diciamo che voglio essere fiducioso dai corri bello Cassius vai 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 no mamma mia c'è stato un giocato una giocata di Cassius porca puttana guardate qui guardate lì guardate Cassius ma guardate Arnautovic come ha tirato ma che ma che cos'è ma che cos'è ma come hai tirato ma come hai tirato che cos'è sta mosceria dai 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 eh niente da fare niente da fare niente da fare no in questo momento siamo scollati e loro no quindi risultano più vedremo Federico dai domani c'è la partita vediamo come va non penso che prenderemo la sveglia perché credo che De Frelle e Berardi siano due ottimi giocatori però sono due giocatori che non sono così veloci così così ficcanti se c'era ancora un Boga probabilmente sarebbero stati i cazzi per noi domani allora infatti bisogna d'asse eh una svegliata ogni volta lo diciamo però non ce la diamo mai però ragazzi datemi un po' di fiducia e fatemi un po' di fiducia se io vi dico che la Roma cioè facciamo anche un discorso di natura tattica perché se no veramente il calcio diventa solamente un mettici la grinta di grigni ai denti cerchiamo pure di fare dei discorsi di natura tattica sempre equilibrati voi avete visto che quando la Roma gioca contro squadre come Sassuolo Fiorentina Atalanta che per carità sono anche Empoli che per carità sono anche delle buone squadre avete visto che in pratica noi abbiamo più spazi riusciamo ad incidere meglio quindi non pensate che contro un Sassuolo sì è vero per carità magari anche loro ci possono segnare ma non pensate al fatto che magari visto che giochiamo contro una squadra un po' più aperta si possano creare dei presupposti pure per farli male no? perché? perché? vi voglio fare una domanda vai vai cazzo vi voglio fare una domanda mi spiegate perché la partita contro il Sassuolo non dovrebbe essere come Empoli Roma ecco veramente così questa domanda spiegatemi perché Sassuolo Roma non può essere come Empoli Roma cosa c'è di diverso? spiegatemelo spiegate ve l'ho lasciato un po' di tempo per postare un commento perché per me le partite vanno valutate anche intanto la Lazio voleva un altro rigore è una cosa è una cosa vergognosa la Lazio voleva un altro rigore ragazzi Cassius è forte moglie lo fanno André speriamo speriamo ma il Genova ragazzi io sto provando in tutti i modi mi sto davvero scolando sto provando a parlare di calcio ragazzi quando noi incontriamo le squadre che sono chiuse a riccio io devo essere onesto devo essere trasparente facciamo fatica abbiamo delle immense difficoltà a sbloccarle però con la stessa franchezza con la stessa onestà vi dico che invece quando giochiamo contro squadre ma non è che ve lo dico ma le partite avete viste o sono diventato pazzo io cioè quando abbiamo giocato con l'Empoli con la Fiorentina con lo stesso suolo ragazzi le occasioni soffroccate le occasioni ci sono state poi se ci mangiamo i gol è un altro discorso però se mi dite che le occasioni non ci sono state non è una considerazione surrogata dai fatti ragazzi la sveglia l'ha già data Murini ai calciatori vediamo vediamo non erano più forti ma giocando più di squadra ma a Genova si è chiuso a Riccio ragazzi ha messo il pullman davanti alla difesa secondo me è un po' di ottimismo meno male secondo me domani vinciamo facile e poi a loro mancano gli attaccanti poi Bocca è stato bravissimo Bocca sarebbe stato un enorme problema secondo me ma per fortuna non fa più parte della comitiva ok Garrison la tattica non ce l'abbiamo ma neanche le palle ma ragazzi fidatevi domani una partita bellissima magari la vinciamo 3 a 2 che ne so io però domani mi aspetto una partita bella no fidate Mauro che tu non consideri proprio gli aspetti tattici stando a quello che dici te l'Empoli che è una squadra che gioca benissimo che ha battuto il Napoli che ha battuto la Juventus che ha messo in crisi l'Inter allora l'Empoli ce ne doveva fa 70 non è vero non è vero ma che ma Genova ha messo il pullman davanti alla porta ragazzi ma chiunque chiunque stava allo stadio se lo ricorda perfettamente a Genova Rui Patricio è da senza voto ma di che parli cioè non ha fatto niente il Genova ok ma l'intensità non può durare per sempre perché abbiamo una rosa molto corta è proprio un discorso che manca qualità in mezzo al campo il centrocampo è un ruolo essenziale e noi è la prima cosa che dovremmo potenziare la prossima estate dopodiché potenziate il centrocampo si fa tutto il resto allora il Sassuolo gioca più o meno nello stesso modo però ha un organico più forte io spero che facciamo una bella partita come contro l'Empoli considera che il Sassuolo ha delle assenze molto importanti e di conseguenza ripeto io sono molto fiducioso quindi insomma dai mi aspetto una partita del genere ragazzi un po' un po' di fiducia ripeto loro giocano molto aperti e io praticamente sono sono fiducioso bravissimo bravo tutti allo stadio ragazzi va 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 che pippa Skorupski non mi manca per niente allora ok allora Asdrael Andrea non sono d'accordo di già hanno giocato ma intensità sì però era pur sempre chiuso amico mio lui Patricio io mi ricordo le cose l'unica parata che ha fatto un colpo di testa ok neanche così angolato che lui ha messo in angolo ma basta in tutta la partita ma ti rendi conto ciao Camara bravo 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 Federico perfetto ok li abbiamo surclassati in tutto ma certo pampero pampa ma io io mica sono rincoglionito ma dai ma come si fa come si fa di che Genova ha giocato una partita ma non scherziamo proprio l'unica parata che ha fatto lui Patricio ha un tocco veramente lento che lui ha deviato in calcio d'angolo ragazzi ma è difficile dare un 6 in quella partita lì a lui Patricio non lo so Camara non penso moltissimo anche perché la partita da l'Alessio è praticamente finita e ho fatto una diretta lunghissima è più di un'ora che sto in diretta bisogna dare il massimo a febbraio questo sì questo sì questo sì sono d'accordo con te questo è un mese molto importante ripeto dobbiamo arrivare un altro obiettivo nostro molto importante è quello di arrivare alla coppa forte e adesso ci gusteremo la partita tra il Celtic Glasgow e il Bodo Glimt ma comunque il nostro obiettivo è quello di arrivare alla coppa in una certa condizione per me per me è veramente importante la Conference League è un obiettivo che è un obiettivo a cui tengo moltissimo quindi confido nel fatto che la Roma possa arrivare alla alla Conference League in maniera giusta non dico che sia facile ragazzi ma ovviamente lo spero lo spero con tutto il cuore e ripeto mi voglio gustare Celtic e Bodo Glimt perché sono molto curioso di vedere alla fine chi l'andrà chi l'andrà a spuntare acquisti per il centrocampo top Renato Sanchez Ruben Neves no guarda sono acquisti molto complicati fattibili ma complicati dico fattibili perché comunque sia non stiamo parlando di Pogba però però sarà complicato perché sono giocatori che naturalmente fanno culo a molti credo che il Manchester voglia prendere Camara a parametro zero non l'ha preso a gennaio perché comunque sia non è che per lui era una questione di vita o di morte però però secondo me secondo me un Camara a parametro zero magari può ingolosire di più un Manchester United quindi che ti devo dire Camara non sono molto fiducioso per il suo arrivo in estate però sono partite aperte quindi staremo a vedere ma sì l'Atalanta secondo me arriverà a quinta quindi come dici tu la partita contro l'Atalanta potrebbe essere un vero e proprio spareggio per il quinto posto allora domani 3-0 facile se giocano ma hanno fatto all'andata perché gli mancano i giocatori in avanti domani hanno solo Berardi vero? vero infatti io sono fiducioso per domani penso pure che la strigliata del mister possa sortire degli effetti positivi siamo d'accordo che cosa di Zagnolo che fosse capitato alla UE? ma certo certo allora ragazzi ripeto perché io lo ripeto perché comunque sia è giusto che magari non tutti possono vedere le mie dirette tutti i giorni sapete perché il VAR è stato inventato il VAR è stato inventato per evitare cose imbarazzanti tipo gol di mano o fuorigiochi di 100 metri non concessi ma noi siamo tutte persone che amiamo il calcio in un certo senso siamo uomini di campo quindi quando io vedo che in campo va bene nessuno protesta nessuno si incazza trovo inconcepibile andare a togliere un gol per un contatto per il quale non ha protestato nessuno per me è una cosa anticalcistica e naturalmente se avesse segnato un gol così Juve Milano in tre gli lori però sempre ha segnato ma non possiamo permetterci di poter pensare di giocare bene solo in conference no no ma al campionato lo faremo ti ho detto Mauro io non so pessimisti io penso eppure domani potremmo vincere un bel pareggio non sarebbe male ma credo che vincerà la Juve secondo me esatto il rigore dato alla oggi alla Lazio è imbarazzante sì ragazzi sono d'accordo con voi sono d'accordo con voi detto questo alla fine è stata una bella diretta la partita della Lazio è praticamente finita quindi dai vi do appuntamento domani va bene e ricordate siate fiduciosi perché ce la possiamo fare un abbraccione grazie